La notte si riaccende in Abruzzo. Per la prima volta dallo scorso autunno, oggi non c'è più alcun orario limite entro cui bisogna rientrare a casa. La nostra regione è ufficialmente in zona bianca, insieme a Veneto, Liguria e Umbria, aggiungendosi a Sardegna, Molise e Friuli-Venezia-Giulia, dove gran parte delle restrizioni sono scomparse già da una settimana. Il via libera da parte del Ministero della Salute giunge quando per tre settimane consecutive l'incidenza dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Al momento circa un terzo dell'Italia è in zona bianca, ma tra sette giorni la lista delle regioni, quasi senza restrizioni, potrebbe allungarsi ulteriormente. La prima novità è che decade il coprifuoco dalle 23 alle 5, seppure in potere dei sindaci emanare ordinanze che possano regolare l'attività degli esercizi commerciali. Le regole sempre valide sono quelle riguardo il divieto di assembramenti, il rispetto delle distanze interpersonali e l'utilizzo della mascherina sia all'aperto che al chiuso. Da oggi si possono organizzare le fiere e riaprono le piscine, le sale gioco e scommesse e anche i parchi divertimento. Inoltre si può tornare a celebrare matrimoni e altre cerimonie, ma gli invitati devono avere il Green Pass, ovvero l'attestato di vaccinazione, oppure devono essersi sottoposti a test nelle ultime 48 ore o aver certificato di aver già contratto il Covid. Le discoteche invece al momento rimangono chiuse. Bar e ristoranti poi non hanno più limiti nel numero di clientela all'aperto, mentre all'interno possono sedersi solo sei persone per tavolo. Rimane una restrizione anche per quanto riguarda le visite a parenti e amici. Ci si può recare in un'abitazione privata nel limite di sei persone, esclusi figli minorenni.